Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 1 Aurelia, traffico rallentato per la chiusura di una corsia nel tratto compreso tra il Bivio per San Vincenzo Sud e quello per Rio Torto in entrambe le direzioni. Rallentamenti sulla statale 62 della Cisa per un senso unico alternato tra Caprigliola e Aulla in direzione nord. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, code per un senso unico alternato un chilometro prima di Gassano. In A1 fare attenzione per personale su strada tra Fabbro e Chiusi-Cianciano in direzione Firenze e tra Firenze Sud e in Cisa-Reggello in direzione Roma. Sulla FIPILI segnalato un cantiere in direzione Livorno tra Interporto Toscano-Est e Interporto Toscano-Ovest. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!